Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord est Trieste. La scorsa notte i gnoti si sono introdotti all'interno del cantiere La Maddalena, sito in via dell'Istria. Dopo aver divelto un cancello hanno sottratto attrezzi da lavoro per un valore di circa 3.000 euro. Ad accorgersi dell'intrusione e del furto è stato il capo cantiere che ha informato la sala operativa della questura tramite il 112 sul posto siericato personale della squadra a volante. Un dipendente pubblico di Pordenone è responsabile di un'associazione sportiva dilettantistica indagato per truffa a danno dello Stato e peculato in quanto in più occasioni pur risultando in servizio o assente da lavoro per malattia partecipava a manifestazioni incontri in rappresentanza del suo delizio di cui era Presidente oppure esolgeva attività extra professionali. Un'altra persona risulta indagata in concorso anche per il reato di peculato poiché il funzionario, grazie al suo status gerarchico all'interno del proprio settore di amministrazione pubblica, impartiva disposizioni a un suo dipendente affinché in servizio di orario, utilizzando un mezzo dello stesso ente di appartenenza, svolgesse un servizio privato nell'interesse del superiore. La Guardia di Finanza di Treviso, nel corso di un controllo al casello autostradale di Venezia Est, ha sequestrato 450.000 mascherine di produzione cinese e tutte non conformi alla legge. La merce si trova in un camion entrato in Italia dal valico di Farnetti. In particolare, 205.000 mascherine riportavano la marcatura CE contraffatta ed erano sprovviste delle certificazioni necessarie a provarne la conformità agli standard di sicurezza richiesti per contrastare la diffusione del Covid-19. Il restante era costituito da 245.000 mascherine destinate ai più piccoli che riportavano i loghi contraffatti dei più noti personaggi dei cartoni animati. Il personale sanitario è allo stremo e in un crescendo di accessi al pronto soccorso nei reparti da settimane ormai i medici stanno affrontando turni massacranti per garantire in una situazione sempre più al limite della sostenibilità le cure essenziali a tutti i cittadini. Lo ha dichiarato il Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Udine Gianluigi Tiberio in una nota nel quale ha sottolineato che anche all'ospedale di Udine la pressione è altissima ogni giorno di più. Il nuovo Ministero della Transizione Ecologica avrà un proprio rappresentante all'interno del Comitato di Sorveglianza del Programma Comunitario PORFESR 2014-2020. Lo ha stabilito una delibera della Giunta regionale su proposta dell'assessore alle finanze del Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli che ha dato attuazione a una richiesta dello stesso Ministero. È un'integrazione che garantisce la massima rappresentatività delle articolazioni e delle amministrazioni nazionali all'interno del Comitato, ha spiegato Zilli. Tanto più condivisibile e necessaria, quanto più il programma regionale che utilizza fondi europei sarà orientato a dare impulso all'attuazione di politiche per la sostenibilità ambientale dell'intera economia regionale e alla conversione sempre più verde del nostro tessuto imprenditoriale. Sul Friuli Venezia Giulia nei prossimi giorni continuerà un afflusso di correnti fredde in quota provenienti dal nord o nord-est che favoriranno moderate instabilità pomeridiana. Per quanto riguarda le previsioni odierne su tutte le zone cielo da poco nuvoloso a variabile, bora moderata sulla costa, nel pomeriggio non si esclude qualche locale rovescio eventualmente nevoso fino a bassa quota. Per la giornata di domani su tutte le zone cielo variabile con probabile maggiore nuvolosità nel Tarvisiano dove sarà possibile qualche debole nevicata, bora moderata sulla pianura sostenuta sulla costa più forte dalla serata. Passiamo al Veneto, cielo sereno o poco nuvoloso, poco parzialmente nuvoloso su montagna e pedemontana, aumento della nuvolosità nel pomeriggio per addensamenti comuniformi maggiormente presenti sulle prealpi dove potranno essere associati a qualche fenomeno schiarite verso sera. Per quanto riguarda la giornata di domani, in pianura tempo stabile, al mattino parzialmente soleggiato per presenza di nuvolosità irregolare, specie sulle zone pedemontane e sulla pianura settentrionale, poco parzialmente nuvoloso verso la costa, ampie schiarite nel pomeriggio. In montagna al mattino tempo variabile con schiarite e nuvolosità irregolare, dal pomeriggio attenuazione della nuvolosità e rasserenamenti a partire dalle Dolomiti in estensione a tutta la montagna veneta in serata. Le temperature minime stazionario in lieve diminuzione, massimo in lieve o contenuto calo in montagna senza notevoli variazioni in pianura. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPA Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nordeste è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie.